potete spiegare con 7 mila persone che in un weekend invadono invadono un'isola che cazzo vuol dire far ripartire il sistema di accoglienza sapete che cosa si devono far ripartire le motovedette che non vengano dalle nostre parti io non so se si possa fare il blocco navale non si possa fare il blocco navale non lo so l'australiano non si entra illegalmente in un paese questo non è uno slogan sarzanini è la realtà di vedere 7 mila persone che vivono come delle bestie non per colpa loro ma per colpa nostra che abbiamo fatti entrare qua non andranno in francia perché non se li prendono non andranno in germania perché non se li prendono e noi siamo qua a fare la taratella il sistema di accoglienza iscriviti al canale